Ciao a tutti, ciao a tutti e benvenuti a questo ultimo live streaming prima della pausa per l'estate Oggi parliamo dell'improvisazione numero 5 I suggest to go to the Facebook group and go to the file section and here you can find the improvisation number 5 Quindi possiamo andare sul gruppo Facebook nella sezione file e scaricare l'improvisazione numero 5 This is what we are going to talk about today Questo è quello di cui parleremo oggi And we will try to analyze this improvisation Proveremo ad analizzare questa improvvisazione assieme And as always I suggest to download these files, these pdf files now from the group Because in the future they will become an ebook or a book So if you want to download them for free now is the time to download them Quindi vi consiglio come sempre di scaricare questi file pdf na adesso perché in futuro diventeranno un ebook Quindi adesso è possibile scaricarli gratuitamente And then I would like to remind you that if you want you can subscribe to the youtube channel And here you can find improvisation number 5 to listen to and to watch to my hands and where I play each note for this improvisation Quindi se vi va vi invito a iscrivervi sul canale youtube E qua è possibile trovare l'improvisazione numero 5 per vedere le mani e ogni nota dove la suono Ok, very well and now as always we start talking about this improvisation I play for you measure one Vi suono la battuta numero uno Che è molto semplice It's always very easy to understand And it sounds like this One more time Ok, analyzing this we can immediately understand that this B note is a chromatic approach from below to the C note And the C note is the perfect fifth for F seventh Then we go to the root F Then we go to the measure third A And again the perfect fifth C So this is a triad, a measure triad For F seventh, for F measure We are not playing the minor seventh here So we have the perfect fifth, root, measure third and perfect fifth one more time And a chromatic approach to the fifth Quindi abbiamo un approccio cromatico, la nota C che va verso la nota DO che è la quinta giusta di FA Poi abbiamo la tonica del FA, la nota FA, la terza maggiore che è la quinta giusta che è il DO And from here we go down and we play the measure third one more time Then we play G which is the measure ninth And it is a diatonic passing tone And then we go to the root one more time And here we have the minor seventh E flat So anyway we are just playing chordal tones Fifth, root, third, fifth, third, root and minor seventh And we just use the G note, the major ninth As a passing tone, diatonic passing tone Between the third and the root And this is a chromatic approach Quindi abbiamo un approccio cromatico alla quinta Poi abbiamo la triade, note a chordali Poi scendiamo di nuovo alla terza, la nota LA La nona, che è una nota di passaggio diatonica, il SOL La tonica, FA E finalmente la settima minore Che è appunto un tono sotto alla tonica And this minor seventh is the perfect connection Between F7 and B flat seven Because if we play the minor seventh Then we can go half step down And play the major third for B flat seven In fact D is the major third for B flat seven So the connection is half step always And the minor seventh That goes to the major third Quindi in questo caso abbiamo la settima minore Che è la congiunzione, diciamo, perfetta Per andare alla terza di SI bemolle settima Che è la nota RE And from here we play the perfect fifth F Then we play the minor seventh A flat And in between F and A flat We play the G note Which becomes the major sixth Or major thirteenth Sorry, the major thirteenth So also here we are using mostly chordal tones Third, fifth, minor seventh And between the fifth and the minor seventh We play the major sixth or major thirteenth Quindi qui suoniamo la terza Poi suoniamo la quinta giusta, il FA Poi suoniamo la settima minore, la bemolle E tra la quinta e la settima minore Suoniamo la sesta maggiore o tredicesima Che è una nota di passaggio diatonica This is a diatonic passing tone One more time Ok, I play this for you again Vi suono ancora una volta questo frammento And to finish this phrase We play the perfect fifth one more time But in this case I'm already thinking I'm yet thinking to F as the root for F seventh And I play this root Then I play a chromatic approach from below And diatonic approach from above And then I go to the root one more time And I play this for you just a moment As you can hear All of these notes are in relationship with this last note Which is the target note F root for F seventh And then we go down to the perfect fifth C And one more time The perfect fifth Sì Quindi queste note sono già da considerare in relazione con l'accordo di fa settima Il fa chiaramente è la tonica Poi troviamo l'approccio cromatico da sotto L'approccio diatonico da sopra La nota sol E poi torniamo alla nota fa Che è la tonica E la quinta poi Di fa Quindi sono Diciamo l'approccio cromatico da sotto Diatonico da sopra E la nota target Che è la tonica E poi la quinta One more time We play the perfect fifth C And then here Yeah We can think to this C note As the perfect fifth for F Or maybe the root for C minor And in this case We can analyze it like this And we can think root Then we have a passing tone The major ninth And then we have the minor third E flat So it's root Ninth And minor third Minor third Quindi in questo caso Possiamo considerare il do Anche tonica di do minore E poi abbiamo il re Come nota di passaggio diatonica La nona maggiore E la terza minore Mi bemolle E flat And then From here We play An arpeggio We play Minor third Perfect fifth The C note Minor seventh B flat And root One more time C And so We could We can consider An arpeggio From C To C With just One passing tone Which is the major ninth So We have an arpeggio Minor seventh arpeggio From the root Minor third Perfect fifth Minor seventh And root One more time And in between We play A passing Diatonic passing tone This D note Quindi possiamo considerare Questo un arpeggio Di do minore Settima Dalla tonica Fino alla tonica Con una nota di passaggio Diatonica Che sarebbe la nota re E tutte le altre note Sono note accordali Tonica Terza minore Mi bemolle Quinta giusta al sol Settima minore Si bemolle Di nuovo la tonica And then On F7 We play The major third And then We play The flat ninth And then We play Root And minor seventh E flat One more time To go To the major third D The same Melodic The same melody That we had Here E flat Going to D E flat Going to D One more time Just to focus On this kind Of movement Chromatic movement That we have Between the minor Minor seventh And the major third Quindi qui Sul fa settima Suoniamo la Che è la terza maggiore Sol bemolle Che è la nona bemolle Fa che è la tonica E mi bemolle Che è la settima minore Che ancora una volta Scenderà Al re Che è la terza maggiore Di si bemolle Quindi Ancora una volta Concentro l'attenzione Sulla settima minore Che scende Alla terza maggiore This G flat We can call it A diatonic passing tone Because In this case I'm thinking To Superlocrian mode And I'm playing The flat ninth Which is A scalar tone Quindi In questo caso Il sol bemolle Lo posso considerare Una nota Diatonica Di passaggio Perché sto pensando A una scala alterata Di fa settima Dove il sol bemolle Diventa la nona bemolle Quindi una nota Che fa parte Della scala Then I would like to play This for you Just to listen To this melody I start from C And I go to D Vi suono questa melodia And I play C One more time And then Here We play the third And we go up To the root B flat Down to the minor seventh A flat And then Here From the minor seventh We play a chromatic Part of a chromatic scale Going down From A flat To F And we play A flat G G flat And F These four notes Are Minor seventh Major Major thirteenth Chromatic passing tone G flat And perfect fifth For B flat Or If we analyze this F note In relationship with B The B chord B diminished chord It becomes A diminished Seven Diminished fifth Sorry Diminished fifth Ok In italiano Suoniamo la terza Il re E poi saliamo la tonica Si bemolle La settima minore La bemolle E poi dalla bemolle Al fa Abbiamo un frammento Di scala cromatica From the minor seventh Dalla settima minore Alla quinta Quindi abbiamo La settima minore La tredicesima Il sol Il sol bemolle È una nota di passaggio cromatica E poi ci appoggiamo alla quinta Di si bemolle Che è anche quinta Diminuita Di si diminuito Del si diminuito And here I would like to 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 underline this In some way Because We In the past Improvisation We Found out This Chromatic Part of Chromatic scale From the third To the fifth From D In In B flat From D To F Or In F Seven From A To C From the third To the fifth And this is a second option That we have Play A chromatic Scale Part of A chromatic scale Between the fifth And the minor seventh So we have These two options Which are very good To play A little part Of a chromatic scale Quindi dicevo che Questa è una seconda opzione Per suonare A una Piccola scala cromatica Diciamo Sempre Suonando intorno Alle note Dell'accordo In questo caso Vado a congiungere La quinta Con la settima minore Con un frammento cromatico Negli assoli precedenti Avevamo trovato Sempre la congiunzione Tra la terza E la quinta Esempio In Fa Settima Suonavamo Dalla nota Re Alla nota Do In Si bemolle Sarebbe Dalla nota Re Alla nota Fa Mentre qui Su Si bemolle Stiamo suonando Dalla quinta Alla settima minore E quindi Abbiamo due opzioni Per suonare Diciamo Un frammento Di scala cromatica Sempre congiungendo Due note Accordali So we can connect Always Two chordal tones From the third To the fifth Or from the fifth To the minor seventh With a Chromatic scale Chromatic scale Using only One diatonic Passing Chromatic passing tone And one diatonic Passing tone In both cases In tutti i due i casi Usiamo sempre Una sola nota cromatica Di passaggio cromatica E una nota di passaggio diatonica And then here We play The B note Which is the root For B diminished And then Here We can think To the flat ninth For B diminished But mostly When I play The diminished chord I prefer to play The major ninth C sharp While here We are playing The minor ninth Flat ninth And I do this Mostly thinking To B flat One more time As I told you In the last videos B flat seventh Or B diminished Are the same chord In some way Just the root Is moving Half step Up Up Half step up And Here I'm thinking To B flat seventh And this Is the B note Is the root But this is The major ninth This is the major third For B flat And then Of course From here Going on I'm thinking To B diminished One more time And I'm thinking The minor third The root Diminished seventh A flat The diminished fifth And the minor third So here It's clear That I'm thinking To B diminished But playing This C note I'm not really thinking To B diminished Because I Usually prefer To play The major ninth C sharp Anyway It works On the diminished Chord Because We have The sound Of this B flat In our memory Quindi In questo caso La nota Si è sicuramente La tonica Del si diminuito Ma la nota Do in realtà La suono Ancora pensando A si bemolle Settima Perché In realtà Sul si diminuito Io preferirei Suonare Il do diesis Che sarebbe La nona maggiore Mentre il do naturale È la nona bemolle Ma faccio questo Perché in qualche maniera Ho la sonorità Del Di fa In testa Di si bemolle In testa E quindi Questa nota do Suona ancora Molto consonante Diciamo E quindi La utilizzo Anche sul si diminuito Anche se La sua nona Sarebbe do diesis In realtà E poi Dalla nota re Fino alla nota re Suono L'arpeggio Di si diminuito Quindi sto di nuovo Pensando All'accordo Verro e proprio Quindi La terza minore La tonica Il si La settima diminuita La bemolle La quinta diminuita Il fa E la terza maggiore E scusatemi La terza minore Il re Chiaramente I play this phrase For you Just a moment So we I play from D One more time And like we did In the last Improvisation Here We are I'm writing Thinking to Ab Going up To A natural A natural Of course Is the major third For F7 While Ab Is the Diminished Seventh For B Diminished But these two notes Are the other two important Guide tones That we have Between B flat And F7 Or B diminished And F7 Ab Going up To A natural Quindi anche in questo caso Sto utilizzando Il movimento Dalla bemolle Alla naturale Che è quello che fa sentire Molto Il cambio Perché sono Le note guida La bemolle Settima di si bemolle O Settima diminuita di si Che sale Alla terza maggiore Di fa Nella naturale So we have These two Guide tones Which are E flat Going to D Minor Seventh Going to the third Or Minor Seventh Going to the major third Ok Which is The same Ok Abbiamo queste due note guida La settima minore di fa Che scende alla terza O la settima minore di si bemolle Che sale alla terza In questo caso And then On F7 We can play We play the major third This chromatic approach To the major third Then we play the perfect fifth Major third one more time Perfect fifth one more time And as always On A half diminished A lot of times I choose to play the diminished fifth Which is E flat It is also the minor seventh For F7 Of course But it is an anticipation For this chord So we can analyze it As the diminished fifth For A flat And here We have the perfect fifth For F7 And this is a diatonic passing tone The major thirteenth The D note And then we connect To the E flat Which is minor Minor seventh For F7 Or diminished fifth For A diminished I play this little melody for you One more time And here We play the diminished In italiano dicevo Suoniamo la terza Poi suoniamo la quinta Di nuovo la terza La quinta E qui Suoniamo il re Che è una tredicesima Maggiore Sesta maggiore E poi Mi bemolle Che è la quinta diminuita In relazione Alla semidiminuito Quindi è un'anticipazione Chiaramente È un anticipo Questa è una nota di passaggio Diatonica Che abbiamo usato ormai Tante volte Quindi On A flat We play Then we play The Minor sixth Minor thirteenth The F note Which is a good note Also for D7 So in this On this measure We can analyse These notes Or in relationship With both chords Or only in relationship With this seventh And the melody Anyway Works On this For example In relationship With A The A have diminished The F note Is the flat thirteenth E flat Is the diminished Fifth One more time Then we have D Which is the perfect fourth And then we have C Which is the minor third And the D note Is a diatonic Passing tone And the F note Could be called Nota di volta Superiore diatonica As always I don't know This name in English Sorry If you know it Please write it In the comments In Italian We call it Nota di volta Superiore diatonica Anyway It's a scalar note And we play A chordal tone Then the scalar tone And we go back To the same Chordal tone In Italian It is a nota di volta Diatonica Superiore Above Upper And But if we analyze This in relationship With this seventh We have the sharp nine The F note Then we have The flat nine The E flat And then we have The root And the flat Minor seventh C The minor seventh So we can analyze This melody In relationship With D seventh Maybe it's better But it works also On A half diminished Dicevo che è possibile Analizzare questa melodia Sia in relazione All'assemi diminuito Che in relazione Al re settima In relazione All'assemi diminuito Le prime note Sono la tredicesima Bemolle La quinta Diminuita E poi la quarta giusta Il re Che è una nota di passaggio Diatonica E poi la terza minore Il do Il fa È una nota Di volta Superiore Diatonica Quindi Perché suono Una nota accordale Salgo a una nota Della scala Che non è accordale E torno A una nota accordale Quindi questo fa La chiamiamo Nota di volta Superiore diatonica And these are names That I use Taken from The classical theory But I think That if we Analysize melodies In this way We can really Understand The meaning Of all The notes That we Find In our improvisations Or in general In melodies Quindi queste note di volta È un nome preso in prestito Dalla teoria classica Chiaramente Però se noi Analizziamo in questa maniera Le melodie Possiamo poi Tranquillamente Capire molto meglio I ruoli di ogni nota Negli improvvisazioni O nelle melodie Che impariamo Then we have D7 And on D7 We play this B flat Which is the Flat 13th Or Sharp 5 If we call it A sharp And it means That we are Going to play An alterated Chord Here This D7 Is an alterated Chord Because we played We played the Sharp 9 The flat 9th And here We play the Sharp 4 Sharp 5th Or Flat 13th So it's an alterated Scale Or superlocrian mode Then we play The F sharp The major 3rd Root D And this is an A natural And it is an Anticipation For the major 9th For G minor 7th The major 9th I play this Little melody From E flat To G For U E dicevo che Su Re 7th Suoniamo la Tredicesima Bemolle Che è anche Una Potrebbe essere Anche chiamata La diesis E sarebbe Quindi una Quinta eccedente E stiamo suonando Un Re 7th Alterato Perché qui Suoniamo la Quinta eccedente La terza Maggiore La tonica E poi suoniamo La nota La Che è La nona Per Sol Minore Quindi è un'anticipazione E qui Avevamo già suonato La nona diesis La nona bemolle Rispetto al Re E quindi Stiamo pensando A un modo superlocrio A una scala alterata A un Re 7th Alterato I play this melody For you Just a moment Vi suono questa melodia One more time And this is really typical You can find this A lot of times In different improvisations And also This arpeggio Augmented arpeggio From the root And sharp five Major third And root This augmented arpeggio Triad Is used A lot of times Quindi questo trillo Che troviamo Tra la nona bemolle E nona diesis Di Re E anche questa triade Aumentata Discendente Sono veramente Due cose tipiche Che troviamo molto spesso In tante improvvisazioni Then We find The A note Which is The major ninth For G minor 7th And we can call it An extension Because We are going to play Something really Important in this moment It is not something That we play Just as a passing tone Or as an approach To something But it is a sound That I really want To play in a clear way In a strong way And it enriches The sounds of this chord So it becomes A G minor 7th Root Minor 3rd Perfect 5th Minor 7th And I'm adding The major 9th Quindi in questo caso Questa Questa la La nona maggiore Di sol È un'estensione Perché Stiamo andando proprio Ad aggiungere dei suoni All'accordo Perché sto suonando Questa nota In maniera molto Chiara E nitida E diciamo Facendo capire Che l'intenzione È suonare questa nota Non la sto usando Come una nota di passaggio Diciamo O una nota di approccio E in questo caso La chiamo quindi Estensione Perché va a estendere L'accordo Quindi sto suonando La tonica La terza La quinta La settima Ma anche la nona E arricchisco l'accordo Quindi dopo suono La terza minore E la tonica La frase è molto semplice Ma funziona Non ha maggiore Terza minore E tonica Ok And then Here Something That we Found Also In the Last improvisation The connection Between The minor Seventh For G minor F And the major Third For C seventh E Always Half step Always Two guide Tones Minor Seven Going to Major Third Very easy But Very important It's not So easy For students For example To be able To really Use these Connections In the right Moment Of our Improvisations Of their Improvisations And It Takes time To be able To do this So I suggest You to Focus On this Quindi In questo caso Troviamo ancora una volta Come nella Improvvisazione passata La settima minore di sol Che scende alla terza maggiore Di do Sempre scendendo di semitono Sempre due note guida La settima che scende alla terza Che fanno sentire molto bene In maniera distinta Il cambio dell'accordo Dal sol minore Al do settima And If you focus Se vi concentrate Su questa cosa qua E riuscite a farla sentire Nei momenti giusti È una delle tecniche Chiaramente Tra le più Importanti E basilari Dell'improvvisazione jazz Cioè riuscire a connettere Con le note guida Gli accordi Nella maniera giusta Non è così semplice Lo vedo Spesso anche con gli studenti Di jazz Riuscire a fare queste cose Nelle proprie improvvisazioni Quindi vale la pena Spendere un po' di tempo Per cercare veramente Di Saperle utilizzare Nei punti giusti Se si vuole suonare Jazz Diciamo And then From the major third Here The E note We play An augmented Triad We play The major third The sharp fifth The augmented fifth Then we play The root And we play The major third One more time Ok This is an arpeggio Augmented arpeggio To give the Alterated sound To this chord Quindi questo è un arpeggio Alterato Suoniamo Un arpeggio Diesis quinta Diciamo Di una triade aumentata Suoniamo la terza La quinta eccedente La tonica E di nuovo la terza E utilizziamo questo Per dare veramente Una sonorità Di accordo alterato A questo In questo momento A questa dominante Then We go on With more alterations Again Because we play The sharp Ninth And then we play The flat knife D sharp And D flat And So that This becomes Really part Of a superlocrian mode Alterated scale Quindi qua suoniamo La Re diesis E il re bemolle Che sono la nona diesis E la nona bemolle E ancora di più Diciamo Diamo un sound Alterato A questa A questo Accordo Then We play The minor Seventh B flat Poi suoniamo La settima minore Si bemolle And we connect From the minor Seventh To the Perfect fifth Si Using A Chromatic Passing tone The B note E connettiamo Uniamo Diciamo La settima minore Di Do Con la quinta giusta Di Fa Con una nota Di passaggio Chromatica The B note A chromatic Passing tone The B note La nota C And from here And from here We play Some notes All of these notes Have got The A note As a target note Because we are going to play Before Before going to A We play Also a chromatic Approach From below To A So I would like To play This For you And It sounds Like this And instead Of playing Just Quindi in questo caso Suoniamo Dalla quinta Alla terza Sempre un frammento Di scala cromatica Quinta Nota di passaggio cromatica Il Si Nota di passaggio diatonica Si bemolle Che è la quarta giusta O undicesima Diciamo E poi arrivare Alla terza Maggiore Alla Però prima di suonare Alla Suoniamo L'approccio cromatico Da sotto Diciamo Sol diesis Per arrivare alla Quindi È una cosa che abbiamo Già incontrato Ma in questo caso Aggiungiamo Una nota cromatica And then We go up To the root For F seventh Or If you want Here we are playing The Perfect fifth For this seventh And we go up To the sharp nine For this seventh Quindi queste due note Possono essere La terza di fa E la tonica di fa Ma possono anche essere Analizzate come Quinta di re E nona diesis di re E in tutti e due i casi Le note funzionano Sugli accordi Ok So just to recap A moment We play triads Here We connect With minor seventh Measure third Guide tones Then we use Passing tones We use target notes And we play Some approaches To these target notes Then we play The flat nine On off seventh For example Then we play This chromatic Part of the Chromatic scale From the minor seventh To the perfect fifth For B flat Then we play Diminished arpeggio From A flat To A To guide tones Very important Guide tones And then we play Passing tones Diatonic passing tones Here we play And on the seventh We play Some alterations Sharp nine Flat nine Flat thirteenth So this is a Super low crown Or alterated scale And then we play An extension The A note Major ninth Here we play These two guide tones Minor seven Going to major third Then we play An augmented triad And more Alterated sounds This sharp nine Flat nine Then we play Minor seven Going up to the Perfect fifth With a chromatic Passing tone And then here We play this Chromatic scale Going down From the fifth To the major Third But we add One chromatic Approach From below To this note And then As always We play the sharp nine On this seventh As you know So in this improvisation I'm using A lot of times The same tools Quindi Partendo dalla Usiamo una triade di fa Poi usiamo questo legame Tra due note guida La settima minore Che scende alla terza Delle note di approccio Per la tonica In questo caso Arpeggio di do minore Con la nona La nona bemolle Sul fa settima Per creare un'alterazione Una tensione Per andare al si bemolle And then Here We play this Qua suoniamo Questo frammento Di scala cromatica Dalla settima Minore Fino alla quinta E poi Qui ancora Abbiamo Un arpeggio Diminuito Qui abbiamo Delle note Alterate Rispetto al re settima La nona diesis La nona bemolle La sesta minore O tredicesima bemolle Un'estensione Per il sol La nona Qui Le note guida Settima minore Che va alla terza E ancora Una triade aumentata Per creare un suono Aumentato E poi abbiamo La nona diesis E la nona bemolle Ancora per creare Un suono aumentato La settima minore Di do Che va alla quinta Di fa Si bemolle Che va al do E con in mezzo Una nota di passaggio Cromatica E ancora una congiunzione Cromatica Tra la quinta E la terza Diciamo Quindi abbiamo Do, si, si bemolle La Ma aggiungiamo Il sol diesis Che è un approccio Diatonico da sotto E poi qua La nona diesis Di re Oppure la tonica Possono essere esaminate In due maniere Queste cose Ok So I think that The analysis Is over And We can go back To this View Ok Thank you For watching This live streaming I know That it's summer And In some way It's time To finish This live streaming Because We can rest For a while Diciamo che È l'ultimo live streaming Perché con l'estate Facciamo una pausa Diciamo E ci fermiamo Se avete qualcosa Da chiedere Come sempre Vi saluto Con una piccola Improvvisazione Se vi vengono Delle domande Delle cose Da chiedere Fatelo pure E poi ci rivediamo Con live streaming Diciamo Da settembre Ottobre I think that I will Restart Live streamings On September Or October And So Now I just would like To say Bye Ciao And I play A little Improvisation As always And See you Have a good summer E comunque Anyway I will go On Publishing Videos Because I would like To work Because I have More time To work Quindi Continuerò A pubblicare Dei video Perché Ho più tempo Per lavorare Quindi Sto Già lavorando Una seconda Improvvisazione Modale Da pubblicare Ok Thank you guys I play Just A little Improvisation And then I say Goodbye Vi saluto And if you have Anything to ask Se avete Qualsiasi cosa Da chiedere Scrivetela Write Write it In the comments Scrivetela Nei commenti And I Will try To Answer Scrivetela Grazie a tutti. 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 Bye, see you, see you in September, October. Ciao, ciao, ci vediamo. Ciao a tutti. Grazie 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 a tutti. I don't know, I don't know.